buongiorno ragazzi buongiorno ben arrivati benvenuti benvenuti allora l'abbiamo aperta la chat in modo tale che tutti quanti possano registrarsi per l'appello no sì sì esatto vediamo è aperta sì la chat è aperta i ragazzi possono scrivere ok ok benissimo intanto 32 partecipanti lasciamo sempre qualche minuto prima di iniziare così diamo la possibilità a tutti di partecipare di raggiungerci siamo vedo già collegata claudia romano oggi sarà la relatrice di questo webinar proprio sul design del gioiello claudia pomeriggio è la buon pomeriggio claudia è la coordinatrice del corso di design del gioiello in accademia italiana e la la formazione invece eh di di staff è sempre la la stessa quindi ci sono Matteo Giulia e i colleghi da Firenze Ruslan Denise e penso ci sia anche Sara da qualche parte e tra tra pochi minuti iniziamo allora tanto vedo che si stanno si stanno scrivendo in chat perfetto sì sì è partito è partito l'appello è partito l'appello sì esatto quindi vediamo un po' che dice ci sono oggi allora i sempre da Firenze il liceo Petrocchi ben arrivati ragazzi 48 partecipanti bene siamo circa a metà penso eh dovremmo essere circa un centinaio anche oggi sì 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 dovremmo essere un centinaio intanto vabbè ragazzi ovviamente il webinar si svolgerà come come tutti gli altri quindi ci sarà una parte dedicata all'interazione fatta con Mentimeter ma come sapete insomma ci teniamo che sia eh completamente interattivo anche oltre la parte di Mentimeter quindi mentre andiamo avanti mentre spieghiamo insomma fateci tutte le domande che volete proprio nella sezione domande e risposte così le distinguiamo dall'appello e vi rispondiamo un po' tutte le domande e soprattutto soprattutto Claudia Romano insomma che sarà qui per raccontarci un po' delle novità del di questo settore molto interessante ma anche per rispondere a quelli che sono vostri poi eventuali dubbi esatto 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 vogliamo aspettare un altro paio di minuti così eh arriviamo alle alle sedici e cinque ma di tale ecco che eh arrivino arrivino tutti eh sì oggi faremo un tuffo nel in questo mondo fantastico del del design del gioiello e eh oggi vi mostreremo insieme a a Claudia eh le alternative no? Chiamiamole così quindi diciamo tutti il alcuni anzi dei eh materiali eh probabilmente poco poco noti no? Eh che vengono molto invece sempre più utilizzati nel nel mondo nel settore del del gioiello e del gioiello e no? Giusto Claudia? Sì sono tutti materiali che attualmente possono sembrare inusuali per la creazione di gioielli ma che con l'ecosostenibilità e anche per una questione di scoperta di nuove texture, nuovi colori aiutano a sviluppare tutto il il percorso del gioiello, del nuovo gioiello del di questo decennio. esatto esatto poi come diceva Matteo eh il webinar sarà eh diciamo prevederà un largamente la vostra partecipazione, la vostra interazione quindi insomma tra poco vi chiederemo di eh prendere i telefoni come come sempre per collegarvi su eh su Mentimeter e per quindi interagire interagire. Allora grazie Giulia. Sì grazie Giulia. Intanto ragazzi iniziatevi a registrare perché il primo step prevede proprio un piccolo sondaggino quiz insomma quindi eh andate andate a registrarvi su Menti e penso dato che il numero si è stabilizzato un altro minuto vi diamo il tempo di registrarvi e e cominciamo. Iniziano ad arrivare i cuoricini. Grazie. Allora siamo adesso a sessanta sessanta partecipanti sì quindi un altro un altro minuto e e poi e poi iniziamo. Esatto. ormai menti penso lo lo conosciate benissimo quindi non serve più che eh vi diamo informazioni e eh insomma sapete sapete fare da soli ormai comunque in alto trovate sempre il codice per per collegarvi e per partecipare. Allora che dite vogliamo 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 cominciare? Sì sì. Ok perfetto. Allora ehm ora vi chiediamo appunto tramite Mentimeter prima di eh iniziare ehm se conoscete delle professioni o delle competenze legate al mondo del design del gioiello. quindi la 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 pagina ora andrà a riempirsi con con le vostre risposte piano 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 e non non ci sono risposte sbagliate come diciamo quindi eh eh sentitevi anche liberi di eh di sbagliati di sbagliare tra virgolette no? Quindi diciamo di tentare a a scrivere una una professione e poi la vediamo la vediamo insieme con con Claudia. ok? Esatto 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 ragazzi cioè diciamo che il ehm l'immagine vicino ci dà un po' un indizio no? Di quella che potrebbe essere in prima in prima battuta una prima competenza e per quanto riguarda le professioni insomma ce ne sono tantissime in questo ambito però buttatevi provate insomma e poi Claudia ci ci andrà a spiegare un po' il tutto. bravissimo ok arrivano allora pigiotteria pure questa è una cosa interessante anche interessante quello della pigiotteria eh gemmologo orafo sì quindi eh ok stiamo andando stiamo rimanendo comunque nell'ambito un po' della della tradizione no? eh della in questo in questo ambito. vediamo se ehm arrivano anche ehm arrivano anche altre risposte ehm artigiano ehm chimica questa è una cosa nuova eh credo che durante l'altro webinar non fosse non fosse uscito questo risultato vero Claudia non non me lo ricordo no 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 è la prima volta che esce però è giustissimo eh sì è una parola eh sì assolutamente ehm ok vogliamo andarle a scoprire? intanto ehm incastonatore incastonatore ottimo ok ok queste sono quelle che ci hanno proposti i ragazzi invece queste sono eh alcune di quelle che abbiamo individuato noi le 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 eh sono sono probabilmente forse eh corrispondono un po' a quelle del world cloud no? Sì qualcosa sì avevano già messo gemmologo incastonatore il progettista orafo che orafo sì erano sono partiti benissimo ottimo bene 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 sì sì eh forse mancava tra eh le 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 parole le professioni trovate dagli studenti il 3D modeller? sì forse diciamo che in generale il 3D ancora nonostante ci sia da una decina d'anni che se non venti che si che sta lavorando tra i vari settori orafi ancora non viene riconosciuto come tale cioè molte persone non riescono ad associare l'idea del 3D al lavoro completamente artigianale in realtà è una versione dell'artigiano ma sul computer perché eh la 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 modellazione 3D io sono una modellatrice 3D richiede ore e ore di paziente eh lavoro al PC con software e stampanti 3D che per ottenere poi gli oggetti e i risultati eh da da che possono portare a gioielli meravigliosi eh uno una cosa che mi preme sottolineare è che una una sezione come il 3D non esclude eh l'orafo completamente a mano anzi diciamo che l'orafo quindi eh tutta la il background dell'orafo dell'incassatore tutto ciò che viene fatto a mano va ad aiutare lo sviluppo del 3D senza queste professioni non non esistrebbe lo sviluppo della figura del modellista 3D o dello stampatore 3D perché si hanno bisogno di tutta una serie di informazioni e di esperienza soprattutto che aiutano a eh poter portare avanti un progetto 3D valevole che che possa essere lavorato che possa andare avanti altrimenti eh il progetto non è conforme potrebbero non avere gli spessori e quindi si risolve non nulla di fatto. certo certo ehm quindi eh ricercatore di tendenze, disegnatore di gioielli, tagliatore di gem, abbiamo visto prima di là eh appunto nella nel cloud la parola gemmologo eh è è uscita progettista, l'incastonatore. Ok ragazzi molto molto bravi perché insomma eh diverse professioni poi corrispondevano a quelle che abbiamo individuato individuato noi. ok allora iniziamo con la ehm la prima domanda eh quindi eh vi chiediamo anche ora di collegarvi su menti inserendo questo eh codice che vedete in alto per per partecipare. ok ok vediamo qualche qualche secondo qualche secondo in più. Arrivano arrivano sì 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 arrivano piano piano al momento ne abbiamo 16 io direi che per lo meno a 20 ci arriviamo eh sì dai 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 sì 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 allora vedo che l'appello va avanti sì in chat ok dai diciannove ne manca ne manca uno e poi e poi iniziamo. Allora oppure iniziamo con diciannove eh. Andiamo andiamo. Andiamo. Allora vi chiediamo quante persone lavorano nelle aziende specializzate in design del gioiello in Italia? Allora le risposte sono sotto eh quindi diecimila, venticinquemila, trentacinquemila. Tutti sono caduti nella trappola della risposta di mezzo che solitamente bisogna essere quella più sì. È vero è vero perché infatti le aziende sono molte di più di quelle che ci aspettiamo. Quindi sono in Italia trentacinquemila eh il dato poi è anche in crescita. Quindi eh vediamo la la classifica parziale ovviamente abbiamo appena iniziato. e eh è in testa eh singlicious ok perfetto. Che si è collegato per ultimo perché giustamente un nome è così lungo ci ho messo un po'. Eh sì ci ho messo un po' per l'esatto esatto. Bene bene complimenti. Ok e qui eh abbiamo un po' riassunto eh alcuni dati relativi a questo a questo settore. Eh quindi ehm il le le aziende le abbiamo viste prima quindi abbiamo circa eh trentacinquemila eh persone occupate in questo in questo settore. eh con un fatturato annuo di sei virgola tre miliardi di euro e diciamo un punto in in Italia. Eh con un eh invece fatturato di oltre due virgola sette milioni di euro nel per quanto riguarda invece l'export quindi tutta la vendita ehm diciamo eh italiana all'estero. il ehm un dato anche molto significativo è il eh è quello relativo appunto al quarantadue per cento che vedete che vedete scritto qui eh di export nell'Unione Europea e in Svizzera in questo in maniera più specifica. ehm ottomila imprese in Italia lavorano in questo in questo settore eh e il cinquantacinque per cento del totale degli eh occupati lavora in uno dei eh distretti diciamo più importanti d'Italia quindi sono numeri eh assolutamente assolutamente significativi. eh questa la lascio la lascio a a a Claudia perché sicuramente ci sa parlare eh in maniera un po' più approfondita dei tre poli chiamiamoli così eh del settore in Italia. sì diciamo che eh il nord o centro nord ha la presenza per livello culturale e artistico di eh una tutta una serie di realtà eh per orafe e di industrializzazione si è artigianato l'industrializzazione è davvero davvero interessante. eh da qualche tempo si sta sviluppando anche il sud con il tarì di Marcianese e anche il doppio il doppio polo che si chiama Oro Mare quindi eh che va vanno diciamo questi poli tutti questi punti di riferimento vanno a riprendere eh non solo la l'ambito della produzione industriale quindi come diceva prima Alessia eh le aziende la produzione ma soprattutto eh prendono spunto eh e si sviluppano da tutta una serie di ehm aziende eh medio piccole eh sviluppate eh stiamo parlando dagli anni trenta quaranta del del ventissimo secolo che eh hanno portato avanti tutta una serie di tecniche e tradizioni davvero interessanti eh basti pensare che non so se qualcuno di voi la conosce penso di no perché ancora non siete interessati forse al matrimonio ma una delle aziende più famose eh in Italia si chiama Uno AR ha tantissimi gioielli ma soprattutto le fedi nuziali e eh si chiama così uno AR perché la prima azienda di ehm Arezzo quindi eh la prima in generale quella storica che ha poi fondato tutto ehm come vediamo dalla slide abbiamo tre poli davvero eh grandi che sono Vicenza, Valenza e Arezzo eh Vicenza ehm ha la ma anche tantissimi scuole di eh credo di eh credo di di formazione proprio per aiutare l'indotto eh di professionisti che devono servire per eh per portare avanti questa questa tradizione. Valenza ehm che è una città piccolissima adesso è uno dei dei più grandi eh poli della gioielleria per la presenza di aziende come eh come sottolineato Damiani Bulgari e Cartier che sono dei uno o due tre dei 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 nomi eh di tutte le aziende che ci sono in più da eh duemilaventicinque se non erro la produzione di Bulgari verrà eh raddoppiata quindi quello che vedete in foto è il polo la casetta dell'Orafo viene chiamata ed è il polo eh Bulgari per eccellenza con mi sembra settecentotrenta persone impiegate all'interno dell'azienda che non si occupano solo di oreficeria eh la l'oreficeria e l'agenderia in generale è piena se vogliamo dire così piena di eh tutte settori e lavori eh completamente diversi ma che vanno eh a completare tutto il processo del dell'ideazione della creazione della produzione del gioiello eh per cui settecentotrenta persone all'interno si occupano da la creazione della gioielleria, lo sviluppo CAD, la produzione, la fusione a cera persa, ma anche logistica, packaging ehm tutto l'ambito grafico quindi un mondo veramente ampio e davvero fervente stessa cosa per quanto riguarda le aziende di Arezzo scusate eh come come vi dicevo prima questi poli hanno davvero una quantità industriale di passatemi il termine industriale di ehm presenze di azienda piccole, medie, eh artigianali, completamente industriali, la produzione conto terzi, la produzione conto terzi è quando un'azienda non produce con il proprio brand ma produce per altri brand eh con un indotto di più di mille duecento aziende quindi tra piccole, medie, grandi, artigianali, industriali e con più di ottomila eh addetti e c'è la l'azienda che vi stavo nominando prima che è l'Uno R eh come vi dicevo famosissima eh per per le fedi negli anni eh che vanno eh che vanno negli anni novecentocinquanta fino agli anni duemila ehm c'era stato proprio un boom per quanto riguarda la la gioielleria e quindi uno R era uno dei eh ed è tuttora uno dei più famosi. Con il covid purtroppo ma come tutte le le situazioni diciamo che anche la gioielleria è andata calando ovviamente eh grazie a Dio nel momento in cui si è uscito da questo periodo buio eh tutto l'ambito orafo eh ma soprattutto l'ambito creativo ha avuto un nuovo guizzo. hanno ricominciato a essere eh a essere produttivi eh si è ricominciato ad aprire i mercati che prima purtroppo erano chiusi come tutto l'ambito asiatico ehm c'è stata una voglia sia per quello che avevamo passato sia in generale perché le persone adesso sono interessate neanche di più all'ambito artistico c'è stata una serie di cambi di interessi c'è stato questo boom e attualmente infatti eh se qualcuno fosse interessato nell'ambito della gioielleria e tenesse sotto controllo per esempio LinkedIn o altri o altri giornali di settore riferimenti di settore si può rendere conto che attualmente ci sono tantissime richieste di lavoro di tutti i tipi per quanto riguarda la gioielleria. non solo in Italia soprattutto all'estero dove la la manifattura italiana è tenuta in alta considerazione tantissime aziende come per esempio Pandora hanno il team dei creativi che è totalmente italiano perché perché ci riconoscono il savoir faire la manifattura eh l'ideazione la creazione che fa parte proprio del nostro DNA no Alessia? certo è qualcosa con cui noi nasciamo e sviluppiamo il tutto ed è ed è veramente bello che altri paesi se ne rendano conto e ce lo ce lo riconoscano. Esatto. È il famoso made in Italy no? Esatto. È un qualcosa che 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 ci portiamo dietro no? In ogni settore creativo poi. Esatto. che noi diamo per scontato perché cresciamo per esempio a Roma siamo abituati a girare tra eh musei e reperti archeologici e la normalità per chi viene dall'estero non è così. Esatto. Infatti si può applicare a molti contesti e ambiti questo questo discorso assolutamente sì. Esatto. Allora ehm domanda numero due quindi in mano nuovamente il il telefono i telefoni e eh si rigioca su commenti quindi il codice lo trovate sempre in alto al momento abbiamo eh tredici giocatori pronti eh sì. mentre si registrano su menti soltanto il solito consiglio insomma perché vedo che a volte su domanda e risposta arriva una segnalazione dell'appello eh chiara precisamente adesso l'ha scritto lì che è presente considera chiara che questo possiamo leggerlo solamente noi relatori quindi scrivilo in chat altrimenti poi la docente non non ti vede presente. sì esatto perché domande e risposte eh le le possiamo leggere solo solo noi quindi vi invitiamo a scrivere eh sull'altra sulla chat allora diciannove giocatori quindi giochiamo vince chi risponde per prima tra i seguenti materiali quali credi sia il più eco sostenibile quindi l'oro l'alluminio anodizzato o la plastica vediamo chi vince chi risponde più velocemente giusto giusto esatto ci vuoi parlare Claudia dell'alluminio anodizzato già stavo dicendo può essere una trappola questa domanda invece vedo che sono andati tutti ben centrati sì è uno dei materiali che ultimamente sta venendo utilizzato tantissimo soprattutto nell'alta gioielleria che di solito l'alta gioielleria noi pensiamo Cartier, Van Cleef, Bulgari Tiffany queste grandi collane piene di pietre con materiali preziosissimi come il platino, l'oro e in realtà invece adesso c'è una inversione di tendenza ovviamente i materiali preziosi rimangono sempre all'interno delle grandi maison però c'è anche l'utilizzo adesso di materiali particolari se vogliamo chiamarlo così perché l'alluminio in generale noi siamo proiettati a pensarlo nelle cucine il foglio di alluminio le lattine della Coca-Cola le lattine in generale i contenitori di alluminio in realtà l'alluminio è uno dei materiali più versatili che esistano per quanto riguarda l'ambito creativo basti pensare ma lo vedremo anche dopo che l'alluminio può permettere la creazione di gioielli con delle volumetrie eccessive quindi grandi collane che però avendo un peso specifico molto basso grandi volumetrie non corrisponde a un grande peso quindi collane grandissime ma molto leggere come è molto interessante il fatto che appunto l'anodizzazione che è un processo chimico-fisico permette di cambiare completamente il colore del metallo in maniera permanente rendendolo diciamo più accattivante quindi si possono ottenere più giochi di colore ma stiamo parlando di colori forti come il fucsia il blu elettrico il verde quindi colori che normalmente sono interessanti da abbinare alle pietre ma che noi in gioielleria non vediamo quindi c'è questo cambio di direzione inoltre l'alluminio perché viene ritenuto uno dei materiali più ecosostenibili perché è praticamente riciclabile all'infinito una volta utilizzato può essere fuso e rifuso e riutilizzato praticamente senza nessun tipo di problema il che ci aiuta per quanto riguarda la ricerca di materie prime come sappiamo stiamo attraversando un periodo questa è una cosa importante un periodo non molto facile sia per la società che per la terra in generale la continua ricerca di materiali e creazione di rifiuti purtroppo sta portando a delle situazioni di collasso che sembrano se continuate su questa via ovviamente non c'è una possibilità di ritorno indietro con materiali come l'alluminio che sono perfettamente riutilizzabili all'infinito mentre per esempio anche la plastica di solito c'è scritto plastica riciclata in realtà la plastica ha bisogno di più processi per il riciclo alcuni tipi di plastica non possono essere riciclati completamente c'è bisogno di alcune aziende che hanno determinate strutture e macchinari per poter fare un riciclo completo e non sempre accade per cui facendo un calcolo effettivamente l'alluminio è uno dei materiali che riesce a creare materiale primo per poter creare soprattutto meno scorie possibili ed è come vi dicevo prima molto interessante e più tardi lo vedremo in una slide infatti più tardi abbiamo una slide proprio dedicata a gioielli realizzati con l'alluminio anodizzato esatto esatto allora vediamo la classifica quindi il più veloce e si conferma si conferma la prima posizione complimenti vediamo se ci vuoi scrivere in chat questo era un esempio quindi un abbracciale in questo caso realizzato proprio con con l'alluminio sì in questo caso abbiamo anche una doppia tecnica eh abbiamo un crackle quindi una una prima una prima copertura colorata che non è continua quindi è stata crepata sì e su cui è stato fatto il secondo passaggio quindi anche un contrasto di colore interessante molto molto bello e sono cose durature quindi non è non c'è possibilità che il colore si perda o che prendendo una botta si possa danneggiare deteriori comunque in qualche modo quindi un materiale durevole e come abbiamo visto non era neanche un braccialetto piccolo era un bel bracciale alla schiava che in oro costa tantissimo e soprattutto è pesante in alluminio è un foglio di carta praticamente ed è bellissimo soprattutto sia per i colori ma la possibilità di creare una volumetria diversa braccialoni con l'anno io poi ho questa fissazione delle del gioiello grande del gioiello grande appariscente vistoso però questi sono bellissimi sì allora andiamo avanti con la la prossima domanda quindi ok quanti giocatori abbiamo ok perfetto quindi quale importante brand ha lanciato la linea di diamanti sostenibili vediamo un po' se lo sapete avete dieci secondi le opzioni sono Bulgari Pandora o Inbilico hanno votato tutti non è Bulgari non è né Bulgari né Pandora ma è Inbilico vi spiego velocemente poi magari ve lo faccio spiegare ancora meglio da Claudia ma questa questa azienda dopo abbiamo anche lì l'immagine dopo la la leaderboard ok vediamo vediamo intanto chi ha vinto e poi gli diamo qualche qualche informazione in più eh nulla ragazzi oggi non c'è gara lui lei non c'è gara bravi bravi complimenti eccolo qua questa azienda ha diciamo realizza dei diamanti coltivati in laboratorio giusto giusto Claudia si sviluppati sviluppati esatto quindi proprio coltivati in laboratorio quindi questa è una una tecnica assolutamente ecosostenibile eh no perché non c'è sfruttamento del suolo di solito in generale per ottenere i diamanti bisogna aprire delle miniere non tutto diciamo non tutte le parti del mondo hanno dei filoni diamantiferi per cui sono scavate e distrutte fra virgolette solo alcune parti della della terra come per esempio Sudafrica ehm ovviamente più si va in profondità eh più si riesce a trovare eh pietre di una di una certa grandezza dovete calcolare che normalmente eh il diamante è composto da carbonio eh scusate grafite che ehm deve essere deve essere sottoposto a delle grandi pressioni quindi pressioni proprio e eh a dei grandi diciamo a delle grandi temperature capite bene che ovviamente non lo possiamo trovare in superficie ma più in profondità verso il il nucleo della terra no? questo vuol dire che ci sono tutta una serie di miniere sempre più profonde per arrivare eh sempre più in profondità per riuscire a trovare eh diamanti c'è da considerare poi che eh non è che io scavo una miniera di diamanti e trovo pezzi cento venti pezzi non so cento duecento pezzi al giorno assolutamente no si è calcolato che più o meno per arrivare a un carato un carato e mezzo che vuol dire che è più o meno grande quanto un'unghia la quantità di diamanti che si riesce a trovare in una giornata eh bisogna spostare dalle cento alle duecento tonnellate di terra che vuol dire che è un continuo rimestamento di lavori e di distruzione del paesaggio con il diamante sintetico si è cercato di trovare una soluzione alla alla richiesta di diamanti eh andando però ad unire la questione della sostenibilità e insomma anche in questo caso eh del lavoro sia infantile sia eh il problema di varie guerre civili ehm perché eh purtroppo in tantissimi paesi vengono sfruttate le miniere di diamanti per poter aumentare eh trovare fondi per per sovvenzionare guerre interne guerre civili eh diciamo che da anni non c'è un processo molto lungo di selezione di diamanti e di certificazione dei diamanti per essere sicuri che eh i diamanti che vengono utilizzati per le produzioni di alta gioielleria non siano i cosiddetti blood diamond cioè i diamanti insanguinati eh Bulgari per esempio è uno dei promotori di questo processo e si chiama Kimberly Process ed è una catena lunghissima di certificazioni e controlli per essere certi che quel diamante viene da quella parte eh è stato estratto da quell'azienda non hanno lavorato minori all'interno il che capite bene è una sicurezza per l'azienda ma soprattutto per le popolazioni eh che lavorano magari all'interno di di queste di queste miniere diamantifere dall'altro ovviamente fa salire il prezzo il diamante sintetico è una eh opzione interessante il materiale è lo stesso invece di aspettare che lo produca la terra con i vari eh le varie temperature del del nucleo o i vari eh movimenti della terra e quindi le varie pressioni eh si produce come diceva Alessia in in laboratorio si eh mimano le stesse condizioni sia di temperatura che di pressione per andare a creare eh quello che a tutti gli effetti è un diamante in tutto e per tutto eh certo c'è mh la differenza di prezzo perché ovviamente eh non eh produrre un diamante sintetico non ha lo stesso eh impatto sul sul territorio e soprattutto non ci sono tutta una serie di step per poterlo per poterlo ottenere quindi positivissimo al massimo dall'altra eh non tutti sono d'accordo all'utilizzo dei diamanti sintetici perché perché effettivamente il diamante naturale si differenzia per alcune inclusioni all'interno quindi se c'è qualche altro minerale e se il colore cambia il diamante sintetico sempre uguale sempre puro eh e quindi eh mh diciamo che non c'è una diversificazione quindi adesso è ancora un po' ehm in discussione ma ci sono dei brand che hanno deciso di utilizzarli giustamente per poter nobilitare per rendere ancora più preziosi i propri gioielli con un costo inferiore mantenendo però la richiesta che è quella del diamante senza andare a sfruttare ancora di più il la insomma il nostro la nostra terra certo Claudia la domanda qui mi viene naturale no perché poi comunque eh questo è un ottimo modo insomma per andare a battere determinate cose ma ehm l'aspetto estetico tra le due tipologie di diamante allora è uguale è quello che no per quanto riguarda allora la colorazione cambia nel senso che ehm il diamante naturale ha tutta una serie di inclusioni eh può esserci una particella di eh corindone ci può essere eh qualcosa di beriglio all'interno per cui ci possono essere inclusioni eh di grafite non non completamente cristallizzata per cui la lucentezza è diversa abbiamo tutta una serie di colorazioni del diamante quindi bianco splendente fino al giallino eh quello che vengono chiamati cognac no sono più tendenti al marroncino eh ci sono addirittura diamanti rarissimi come il diamante blu il diamante rosa che vedono un mix chimico fisico di eh di elementi gemmologi di elementi minerali all'interno che creano delle composizioni uniche quindi il colore ovviamente è quello la lucentezza eh la possibilità diciamo che il diamante naturale è un proprio DNA no ha una cosa che lo caratterizza come se fosse le nostre impronte digitali ovviamente non tutti abbiamo le stesse impronte digitali uguali per quanto riguarda la forma invece non c'è nessun tipo di problema nel senso che i tagli utilizzati per il diamante quello a cui siamo abituati solitamente il taglio brillante che è quello che si usa per gli anelli di fidanzamento o quello che vediamo per esempio in foto che sono delle marquise o in italiano navette sono praticamente identici e precisi una volta che si è preso il minerale decide il tagliatore come tagliarlo quindi a livello di forma non cambia nulla a livello di costruzione diciamo del DNA della pietra ci sono parecchi aspetti da tenere in considerazione i puristi non sono totalmente d'accordo eh no assolutamente invece c'è un po' di bufera su questo ok allora vediamo la ultima domanda la quarta domanda mi raccomando velocittimi dove si svolgono le più importanti jewelry week in Italia quindici secondi quindi eh Lecce Bologna e eh Palermo sì giù farà eh Torino Arezza e Modena oppure Roma Valenza e Milano Roma Valenza e Milano esatto c'è un eh un pari merito qui nelle le risposte giusto Claudia nessuno ha puntato su Lecce e Bologna no nessuno però Torino Torino effettivamente potrebbe essere un un ottimo riferimento sì infatti abbiamo un vincitore una vincitrice eh se ci vuoi come no ho fatto un campionato a parte sì non non c'è stata non c'è stata gara oggi oggi non non c'è stata non c'è stata la gara eh ecco se ci vuoi scrivere la scuola ci fa ci fa molto piacere lascio la parola a Claudia per parlarci anche un po' di queste jewelry week che sono dei momenti molto importanti e che finalmente abbiamo ricominciato a fare è stato un periodo proprio buio tre anni di buio completo per normative covid per tutto l'impossibilità anche di reperire materiali interessanti per poter creare gioielleria per cui è stato messo tutto in stand by quella che vediamo è la foto di l'ultima rom jewelry week che è stata fatta se non erro a ottobre 2022 a cui gli studenti di accademia italiana finalmente hanno ricominciato a partecipare siamo usciti da questo da questo buco nero sono delle opportunità davvero interessanti non soltanto per quanto riguarda la produzione ma per avere un'idea completamente nuova di come sviluppare il gioiello qui in questo caso stiamo parlando di gioielleria contemporanea che cos'è la gioielleria contemporanea è gioielleria che mixa materiali alternativi e messaggi nella costruzione del gioiello diciamo un po' più ricercati un po' più studiati più profondi se vogliamo è interessante quindi per l'ambito artistico è interessante per la scoperta di materiali nuovi è interessante per quanto riguarda l'utilizzo di tecniche nuove o del passato che grazie a Dio stanno ritornando sempre più in voga l'artigianato ma come in tutti i campi per un periodo era stato messo un po' in disparte invece ci si è resi conto col tempo che poi tutto quello che faceva parte del passato era sì difficile perché l'ambito artigianale non è mai facile per imparare per sviluppare le tecniche ma è estremamente interessante per tutta una serie di elementi che si porta dietro è un elemento le gioielleri week sono interessantissime per il networking quindi per creare la propria rete di contatti e conoscenze nell'ambito della gioielleria sono ovviamente degli elementi culturali valevoli molto molto importanti anche per capire quali sono i trend di settore sull'ambito della gioielleria come è cambiato il gioiello dopo il covid perché può sembrare una sciocchezza ma in realtà post covid si è visto che in generale ma soprattutto nelle produzioni artistiche e manufatturiere ci si è resi conto che adesso tutta la produzione si sviluppa su la parte più emozionale della della persona mentre prima era forse non voglio dire di apparenza perché sembra che voglia sminuire ma era più avere l'oggetto di un certo tipo per poter per poter mostrare il proprio valore tra virgolette le proprie ideologie adesso c'è una parte emozionale sentimentale dell'oggetto ma di qualsiasi tipo dal gioiello al vestito all'accessorio o anche banalmente gli acquisti per la casa le macchine che va a essere incentrato su una parte molto molto più interna e molto più profonda della persona dell'acquirente finale e questo a mio avviso è una cosa molto interessante è un'arma a doppio taglio come tutto ma è davvero interessante che post covid ci sia stato tutto questo cambiamento i due anni i tre veramente i tre anni che abbiamo vissuto con conseguente allontanamento dei legami delle sospensioni delle nostre attività normali hanno fatto sì che si sviluppassero tutta una serie di elementi atti a sopperire a queste mancanze che abbiamo dovuto subire purtroppo e le nuove manifestazioni di gioielleria hanno messo l'importanza su questo e soprattutto su finalmente la possibilità di incontrarsi dal vero di poter vivere l'altra persona a livello culturale a livello emotivo per potersi confrontare i propri i propri lavori allora andiamo andiamo avanti e adesso iniziamo proprio veramente ad entrare nel clou di questo di questo webinar e vorremmo prima partire da una domanda che vi che vi poniamo riflettendo un po' su quelli che sono i gioielli che avete che avete a casa no quindi pensando proprio a quelle gioielli che avete in casa vi è mai capitato di acquistare gioielli realizzati con materiali alternativi noi ne abbiamo messi alcuni quindi con ecopelle gusci d'uovo conchiglie o comunque in generale materiali di riciclo allora vediamo vediamo in questo momento un testa a testa tra il sì e il no perché magari a volte non si è nemmeno troppo consapevoli no di cosa di cosa si è comprato quindi potete benissimo anche rispondere non lo so non ne ho idea in questo in questo momento però vedo che prevale il sì comunque questa è una buona notizia ottima eh sì poi la cosa secondo me interessante è anche la divisione stagionale no Claudia di certe tipologie di riciclo no perché qui poi leggendo conchiglie ed altro sicuramente è qualcosa più legato all'estate forse le copelle e il resto anche se conchiglie abbiamo visto abbiamo fatto uno studio con i ragazzi di accademia per quanto riguardava le borse le heat bag no particolari abbiamo trovato degli artisti che addirittura sviluppavano collezioni di gioielleria con tutti i diciamo i residui della lavorazione delle conchiglie e di tutte le i molluschi perliferi e creavano collezioni sia invernali che estive di clutch e borse sfruttando i vari colori delle conchiglie quindi dal nero al beige al madreperlato molto molto interessante però sì effettivamente hai ragione di solito la conchiglia cosa ci fa venire in mente il mare il sole l'estate che è qualcosa di ovviamente di presente nelle nostre vite sempre ok allora quindi ulteriore domanda prima di di cominciare e ripartiremo poi proprio dalla l'albumiano di Zato tra l'altro di cui abbiamo parlato prima allora questa è una domanda che rivolgiamo a voi quindi vi chiediamo quali materiali sostenibili possono essere usati quindi vediamo se magari intanto qualcuno di cui abbiamo già parlato vi abbia colpito particolarmente comunque appunto alluminio plastica oro e tessuti questa questa è una novità oggi gusci comunque una cosa interessante è anche vedere un po' la consapevolezza che ormai si ha sulla plastica che viene sempre più vista come materiale di riciclo addirittura per il gioiello che magari nell'immaginario comune è qualcosa che è oro diamanti invece comunque con Claudia scopriamo sempre nuove forme nuovi materiali e così via esatto hai ragione ok bene grazie ragazzi e ora torniamo appunto all'alluminio anodizzato di cui abbiamo già parlato un po' prima però adesso vi facciamo vedere un po' di esempi esatto bellissimi esempi per me sono di una designer londinese che si chiama Anabella Chen e sono sviluppati completamente con materiali preziosi quindi abbiamo oro argento pietre preziose ma diciamo che gli elementi preziosi sono elementi marginali perché la totalità dell'oggetto la volumetria è sviluppata con alluminio anodizzato nel caso degli orecchini alluminio rosa anodizzato in rosa nel caso degli altri orecchini che però sono in versione fiocchi e alluminio è stato anodizzato con il colore blu molto interessante per me è l'idea che si possa come avevo detto prima creare dei volumi grandissimi dovete considerare che questi orecchini hanno più o meno un diametro di 4-5 cm quindi enormi se consideriamo di solito gli orecchini piccoli gli anellini che mettiamo alle orecchie ovviamente non sono orecchini da tutti i giorni soprattutto per il costo però è veramente interessante capire che orecchini così grandi possono essere comunque indossati tutta la giornata perché il materiale con cui sono realizzati ha un peso talmente basso che ci permette di poter avere delle grandi dimensioni inoltre si presta tantissimo una plasticità dell'oggetto tale da come potete vedere hanno ricreato tutti i petali dei fiori in maniera quasi veritiera e dolcissimo in fondo ultimo ma non ultimo l'idea di poter cambiare completamente il colore dell'oggetto quindi passare dal grigio il tipico colore dell'alluminio a cui siamo abituati e avere una varietà infinita di sfumature perché diciamo che il processo di anodizzazione che fondamentalmente consta di alcune vasche con dei materiali con dei liquidi particolari che permettono di poter rilasciare degli elementi sulla superficie unito all'utilizzo di scariche elettriche ci aiutano a ottenere i colori che vogliamo con questi due elementi ovviamente a seconda di quante elettricità mettiamo quanto è il tempo di durata del trattamento quanto è il materiale liquido che utilizziamo capite che non abbiamo soltanto il verde il rosso e il blu ma abbiamo centinaia di sfumature e ognuno può sperimentare perché ci sono anche degli strumenti che possono essere utilizzati tranquillamente a casa possiamo tranquillamente sviluppare il colore a cui più siamo interessati quindi di solito l'alluminio ha il fucsia che è un colore acceso in questo caso loro sono riusciti modificando i trattamenti ad ottenere un rosa così come sempre questa designer è riuscita a ottenere un verde pastello tutta una serie di colori che ampiano tantissimo l'idea della gioielleria in sé a me piacciono tantissimo questi orecchini anche la versione fiocco per tutta la loro struttura ma soprattutto poi per l'utilizzo come sempre che questa è alta gioielleria di pietre preziose e materiali preziosi e materiali non preziosi perché è anche difficile poi riuscire ad agganciare materiali non preziosi e materiali preziosi non è una cosa molto facile a livello tecnico abbiamo bisogno di alcune rivettature alcuni perni perché non possono essere saldati insieme gli elementi perché il materiale prezioso come il platino l'oro ha dei punti di fusione molto alto mentre l'alluminio ha molto basso il che vuol dire che utilizzando del fuoco sull'alluminio lo distruggiamo completamente e quindi anche lì utilizzo di materiali alternativi significa anche andare a sviluppare delle tecniche alternative per assemblare in maniera professionale e di altissima qualità gli oggetti che abbiamo poi ottenuto ho capito Claudia molto interessante questo discorso sull'alluminio devo dire da veramente un'alternativa valida a quello che magari tutti noi tutti noi conosciamo ma forse è ancora più sorprendente il discorso che andiamo a fare adesso le varie bioplastiche le varie bioplastiche sì come dicevamo prima l'idea di continuare a scavare o a modificare diciamo tutti gli elementi che trovano in natura per poter creare qualcosa di sintetico come il plastico di questo tipo all'inizio è stato un boom incredibile è stata una cosa interessantissima quel tempo e me ci siamo resi conto che produrre determinate cose in plastica comportava non solo una serie di residui e residui che ovviamente non facevano bene alla residui di lavorazione intendo che non fanno bene al nostro al nostro pianeta ma soprattutto ci siamo trovati a confrontarci con una serie di spazzature e altri elementi purtroppo non riutilizzabili o comunque smaltiti male abbandonati che hanno creato più problemi che altro negli ultimi anni questa consapevolezza ha portato tantissimi artisti e ricercatori a sviluppare materiali alternativi da ciò che avevamo e questo per esempio il caso delle bioplastiche in generale possono essere sviluppati da elementi io per esempio avevo fatto degli esperimenti con i fiori secchi di calendula che sono magari le bustine del tè che noi utilizziamo per fare gli infusi con altri due elementi come il glicerolo oppure con la la colla di pesce che sono tutti elementi che trovate al supermercato quindi niente di così complicato io e altri colleghi eravamo riusciti a sviluppare delle bioplastiche che potevano essere a lunga durata quindi non attaccate da muffe e cose di questo tipo che potevano essere utilizzate per diversi utilizzi il mio preferito e soprattutto per l'utilizzo che ne posso fare nella gelleria contemporanea ma in generale perché poi non è soltanto quello l'utilizzo ovviamente non sto parlando solo della gelleria ma in generale i materiali è creare un nuovo tipo di ceramica partendo dai gusci di uova perché creare un nuovo tipo di ceramica perché la ceramica per i composti per poter divenire poi quello che noi riteniamo ceramica hanno bisogno di una serie di elementi come il caolino ed altri elementi sempre da scavare quindi non è che li troviamo superficialmente quindi c'è sempre bisogno di andare a modificare la struttura del nostro background per poi ottenere le materie prime che ci interessano ma noi effettivamente le materie prime le abbiamo già le uova in questo caso che utilizziamo tutti i giorni andiamo al supermercato ci sono pacchi interi di uova contengono calcio sono completamente piene di calcio per cui si è pensato di andare a utilizzare tutto il calcio che era all'interno di questo uovo per andare a sviluppare degli elementi andando a creare un nuovo materiale chiamato bioceramica questo è utilizzato tantissimo sia per le decorazioni di interni sia per gli elementi delle costruzioni delle case le piastrelle il battiporta il battiscopa ma per le sue qualità perché ovviamente nuovi materiali nuove tecniche significa anche nuove proprietà quindi la durevolezza la plasticità la possibilità di adattare l'oggetto in altre situazioni che magari prima invece non lo stesso materiale che utilizzavamo prima non dava le stesse rese ha permesso di fare in modo che la bioceramica possa essere utilizzata in tantissimi ambiti quindi da il design di interni all'oggetto di design che potete trovare in generale per quanto riguarda il gioiello gli accessori e un po' quello che ci circonda infatti a proposito di questo abbiamo anche un breve video che vi vogliamo far vedere per vedere un po' il processo poi per ottenere i gusci d'uovo che poi possono essere utilizzati per la gioielleria e non solo esatto l'audio credo sia disattivato non sentite? no non lo sentiamo l'audio almeno tu lo senti Claudia l'audio? io no 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 non si sente sì 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 è molto interessante perché è un breve video del diciamo del è un estratto del telegiornale in cui si vede proprio il processo quindi queste uova come vengono trattate quindi è interessante forse ce l'ha qualcosa eccolo grazie Giulia lo sapevate che i gusci delle uova quando escono dall'industria alimentare vanno sterilizzati e non possono finire nell'organico e che il fragile guscio può trasformarsi in calcio e cemento naturale di ottima qualità ridotto a sabbia portato a una temperatura di 900 mille gradi come reagisce e si calcina esattamente come un qualsiasi carbonato un sasso una pietra da cava la Valzugana è circondata da un bellissimo scenario alpino e qui tra le montagne pensando a quanto sono brutte le cave è nata l'idea di reimpiegare in edilizia 13 miliardi di gusci d'uova quanti ne produce ogni anno l'industria alimentare italiana sono convinto che forse anche tutto il settore della biodiversità e del restauro in Italia dove si utilizza la calce potrebbe essere coperto utilizzando questi scarti mescolando questo carbonato con un'argilla naturale si può ottenere un cemento naturale con un vantaggio di che tipo? questo cemento è naturale messo all'interno di un'abitazione non rilascia nessun tipo di elemento si tratta di leganti antichi come il mondo che con la terra che in centro Italia non smette mai di tremare potrebbero essere utili per ripensare il modo di costruire tenendo a mente la pozzolana del pantheon che dopo 2000 anni fa ancora presa che può essere utilizzato anche molto semplicemente nell'edilizia comune volendo essendo anche un elemento molto più flessibile molto più diciamo elastico di non un cemento che è molto rigido un cemento naturale bellissima no? quindi può essere applicato a tutto molto a proposito di varie come diceva anche lui nel video ha tutta una serie di proprietà che magari il cemento normale non ha o comunque deve essere aiutato come il cemento armato per ottenere il fine ultimo che vogliamo invece questi nuovi biomateriali a volte hanno delle proprietà in più che ci aiutano nella vita di tutti i giorni in generale allora gemmi idrotermali ed ecopelle quindi forse già qualcosa che abbiamo anticipato prima gemmi idrotermali vuol dire che sono state create in laboratorio quindi ci possiamo riagganciare al discorso che abbiamo fatto dei diamanti in questo caso stiamo parlando di gemme di valore inferiore ma anche qui si evita di sfruttare ovviamente tutto l'ambito minerario del pianeta Terra per andare a creare direttamente il laboratorio con gli stessi materiali perché come abbiamo detto pure per i diamanti non è che il diamante sintetico è fatto non lo so di acqua mentre quello normale di grafite e carbonio cioè non i materiali sono sempre gli stessi però hanno ovviamente degli sviluppi diversi in laboratorio hanno anche uno sviluppo diverso nella costruzione del cristallo quindi c'è meno perdita di materiale meno perdita nella creazione del gemma in sé altro elemento interessante e qui vediamo dei riferimenti della designer slovena Martina Lonscher che utilizza tantissime pietre idrotermali perché tra le altre cose una delle qualità alcune di esse è che riescono a sostenere delle temperature altissime che vuol dire che durante i processi di creazione di cera persa praticamente puoi già infilare l'oggetto con i diamanti all'interno quindi il tuo prototipo in cera con già la gemma che resiste al calore all'interno e poi effettuare la fusione che vuol dire che elimina anche dei passaggi di lavorazione stessa cosa ecopelle sempre della stessa designer da l'Ubbiana è l'utilizzo di materiali diversi per la creazione di oggetti veramente interessanti e unici e in questo caso l'utilizzo di ecopelle quindi tutta una serie di materiali che riprendono la stessa texture la stessa sensazione della pelle ma che ovviamente sono molto più sostenibili sia per gli animali sia per la produzione in generale perché non c'è necessità di andare ad avere allevamenti intensivi dover poverini uccidere gli animali per poter ottenere la pelle ma avere materiali che riprendono le stesse caratteristiche e che magari hanno delle proprietà anche in più la morbidezza, il calore, la vestibilità che sono tutte cose da tenere sempre in considerazione anche la durezza nel senso che tipo di materiale abbiamo quanto tempo riescono a rimanere nel tempo quindi tutta una serie di elementi positivi che ci aiutano quindi a cambiare direzione sulla scelta dei materiali da utilizzare e anche su questo abbiamo un video che ci teniamo a farvi vedere perché è illuminante in un certo senso e poi lo commentiamo questo puree will eventually become vegan leather è made from thousands of mangoes che sarebbero altissime che sarebbero altissime ora questo waste può essere usato a fare valore, handbags e shoes ma può competere con la massima leathera? abbiamo visitato la città di frutteleather in the netherlands to find out frutteleather collects around 1,500 mangos each week from a dutch importer the quality control requires di frutteleather in the netherlands the mangoes and then crushes the fruit into a pulp the mixture pumps through a tube into a large vat next, Hugo mixes several additives that will turn the mango pulp into a leather-like material I'm checking if our measurements are right my meter tells me that I have to add a little bit more of our additives perfecto when it looks right Hugo pours the mixture onto metal baking trays and smooths it out to create an even thickness then the trays go in a dehydrator overnight before we dry it it always has this light cram color but after we dry it it tends to look very different based on the type of mango that we use so for instance a palmer mango will give a more brownish material Keith mango will give a more black material finally the sheets go to a leather finishing facility to be coated in a protective glaze Rico and his family have been in the leather business since 1952 but this is the first time they've processed vegan leather we use the same process but it's different material so it responds differently to heat or to the finishing products we use first he measures the thickness of each sheet then they mix resins to make the coating and it makes a little film on top of the sheet so it will be protected from the elements a machine a machine presses a thin layer of protective coating onto the leather when the sheets pass through they go onto a a conveyor and that will roll into an oven the 100 degrees celsius heat helps the coating dry then the sheet hangs on racks to cool and dry completely each one undergoes this process multiple times to make it more durable next another machine applies heat and pressure to combine the layers of coating the final step is the design this embossing machine can make the leather look and feel like animal skin then the leather is sold to designers around the world Hugo and Kun first came up with the idea for fruit leather back in 2015 we wanted to turn something valueless into something that has value eventually with a lot of experimenting we came up with the material that we have today a big part of this process was deciding which fruit to use when we first started we didn't know that a certain fruit might lead to better material actually in such a way that we even tried processing watermelons turns out there's not a lot of fibers inside watermelon it's mainly water they settled on mangoes because the fruit was easy to work with later we found out how much mango Holland actually imports more than half of the mangoes in Europe are imported or traded by the Netherlands and around 12% of food in the Netherlands is wasted we are able to get a very large amount of resource to make our material that is why we decided to stick with the mango Hugo and Kun also want to reduce emissions another way we saw that all kind of chemicals were being used to tan the leather with all CO2 that comes from the tanning process the chemicals used to tan leather can be toxic to both humans and the environment there's also the methane emissions that come from raising cattle if we reduce the number of cows then we also reduce the amount of greenhouse gases but some experts say it's not that simple leather is not primarily what's driving the cattle industry and I think that there's a pretty compelling argument to be made that as long as beef production is still continuing that we should make use of these hides vegan leather also comes with its own challenges although some of it is made from mushrooms or pineapples most is made from plastic to make also because the video was in English but the images were very clear and very strong and we comment with Claudia but often the food and in this case we saw the mango in particular Non tutti superano il test di qualità molto spesso legata all'estetica del prodotto e quindi per essere venduta nei vari supermercati. Tutto questo cibo che in qualche modo andrebbe buttato, andrebbe sprecato, viene in questo senso riutilizzato in maniera sostenibile e creativa per la realizzazione di, abbiamo visto, borse, scarpe, gioielli e questo dovrebbe essere la direzione verso la quale dobbiamo andare. Sicuramente e soprattutto come dicevi tu hanno utilizzato il manco come elemento di scarto dell'industria alimentare mondiale. Non stiamo parlando di qualcosa di completamente astruso dalla nostra realtà. Come sappiamo la maggior parte degli elementi di scarto provengono da industria alimentare e poi industria del prodotto in generale. L'industria alimentare ha uno scarto altissimo non per la qualità dell'oggetto, del prodotto in sé che andiamo a mangiare perché come abbiamo visto dalle foto e dal video, tutto quello che loro utilizzavano come mango, quello non avevano nulla che non andasse, non è che loro trattavano solo ed esclusivamente frutti ammuffiti o comunque caduti, quindi pressati, distrutti. Erano tutti tipi di frutti completamente commestibili e buoni, ma che come dicevi tu non passano il controllo qualità, nel senso non hanno quell'estetica che magari attira il consumatore tipico del supermercato che quindi lo lascerebbe sul bancone. Ci può sembrare una sciocchezza, ma anche per l'industria alimentare ci sono delle rigide regole di marketing che portano a sfruttare determinate cose e buttare tantissime altre. Quindi loro, i due creatori, ma come tantissime altre aziende, ci sono alcune aziende in Italia che per esempio hanno sviluppato delle ecopelli partendo dalle bucce d'arancia, di cui noi siamo produttori, no? Quindi andare a sfruttare qualcosa che tu stesso produci per creare un altro materiale che in alternativa sarebbe spazzatura. Ora, sicuramente l'ambito alimentare è quello più facilmente smaltibile. Ci facciamo il compost, facciamo il terreno, prima o poi si riappropria di tutti gli elementi che fanno parte di questi scarti alimentari. Però capite bene che sono delle quantità industriali tali che anche la terra ci mette tantissimo, per cui si riutilizza qualcosa che effettivamente è buono, che viene bollato come scarto, per ottenere altro, in questo caso materiali come similpelle, che aiutano a diminuire gli allevamenti, le lavorazioni. Nel video poi un po' mi ha fatto sorridere perché diceva che di solito il trattamento per le pelli potrebbe essere dannoso. In realtà è dannoso perché tutti gli scarti chimici che devono essere smaltiti da aziende di quel settore sono problematici, possono a lungo andare a inquinare le falde acquifere, creare problemi, far sviluppare tumori alle popolazioni all'intorno perché sono tutti elementi chimici. Quindi diciamo che, come dicevamo prima, andare a sviluppare nuovi materiali non è soltanto una scelta etica o perché si è animalisti, ma è proprio per aiutare la nostra società a poter continuare ad andare avanti e a debellare determinate cose. Quindi a eliminare tutto ciò che è di pericoloso è per noi, anche per la fauna locale e la flora ovviamente. Molto interessante e chiudiamo questo webinar con un altro tessuto, quindi un altro materiale che abbiamo deciso proprio di inserire in questo discorso e che forse è anche il materiale sostenibile più utilizzato e più comune. Esatto, i riferimenti fotografici che stiamo vedendo adesso sono di un famoso, nell'ambito del gioiello contemporaneo, artista che non vorrei dire una sciocchezza, credo belga, che si chiama Sebastian Carré, che ha sviluppato la propria idea di creazione di gioielleria partendo da il suo essere malato, quindi una patologia cronica, chiamata Morbo di Crona, che quindi va a mettere in discussione purtroppo l'utilizzo dell'intestino, da questa disavventura che purtroppo lo accompagnerà per tutta la sua esistenza, ha tirato fuori, quindi ritorniamo al discorso, la parte emozionale del gioiello, ha portato fuori da questo suo dolore una serie di elementi e li ha poi declinati con forme e colori diversi dalla gioielleria in generale, ma con un significato molto più profondo, andandoci ad abbinare tutta una serie di materiali non nuovi, ma andando a utilizzare gli scarti di produzione dell'ambito sartoriale, dell'ambito della produzione del vestiario, come dicevamo prima, c'è l'ambito della produzione alimentare che ha degli sprechi e delle lavorazioni grandissime, ma quello dell'ambito del vestiario, quindi tutto il trattamento dei tessuti ha per esempio uno dei più grandi utilizzi e sprechi di acqua mondiale, quindi l'artista era particolarmente interessato all'utilizzo di alcuni materiali, ma ha pensato bene di andare a utilizzare ciò che anche qui veniva ritenuto uno scarto, ma che in realtà scarto non era né per la qualità né per la quantità, magari perché il marketing voleva una determinata forma di una pezza di tessuto, in realtà la struttura aveva una dimensione inferiore e quindi veniva bollata come rifiuto. Non utilizzabile. Sì, rifiuto non è assolutamente, anzi come possiamo vedere lui ha tirato fuori delle forme, dei colori e delle strutture davvero davvero interessanti. Ok, ti ringrazio molto Claudia. Io ringrazio voi. Grazie, grazie mille. Vi poniamo un'ultima, in realtà è un sondaggio, quindi vi chiediamo, visto che ci avviciniamo verso la fine di questi webinar pomeridiani, vi chiediamo se a questo punto ci sia un settore in cui vi piacerebbe maggiormente lavorare, se volete partecipare potete collegarmi su Mentimeter e rispondere. Vediamo, allora, wow, schizzato gioiello accessori. Vediamo un po' se ci sono altre preferenze. Allora, metalmeccanico, moda, ok, voi continuate anche a votare. Noi ne approfittiamo per ricordarvi dei nostri prossimi due webinar che, diciamo, chiuderanno questa sessione pomeridiana. Il prossimo sarà lunedì pomeriggio alle 16, nella stessa fascia oraria di questi ultimi appuntamenti, quindi 16, 17 e 30 e il tema sarà quello del interior design. E poi, ultimo appuntamento, invece, giovedì di settimana prossima, il tema sarà quello della fotografia. Quindi vi aspettiamo, sono inoltre già partiti i workshop presso le nostre sedi e a cui, diciamo, vi invitiamo. Ma nel frattempo vi diamo appuntamento al primo dei webinar che ci sarà lunedì di settimana prossima. Grazie a tutti. Allora, ringrazio Claudia e ringraziamo tutti voi per aver partecipato. Grazie a voi per avermi ospitato. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.